Maria C. Revisore, Presidente Revisore, Presidente Revisore, Presidente Revisore, Presidente Revisore, Presidente Adesso, alla presenza delle nostre autorità, inviterei i giovani medici neoiscritti per il giuramento. Vi prego di accomodarsi in basso. Venite tutte qui. La professoressa Margheria si è occupata di questo aspetto della nostra cerimonia e invito quindi lei a presentare i giovani che leggeranno a nome di tutti il solenne giuramento professionale di osservanza dei principi etici e morali della professione. Qui davanti. La dottoressa Ilenia Merlo e il dottor Davide Tinti, nuovi dottori, con i loro colleghi, presenteranno adesso il giuramento professionale. Consapevole dell'importanza e della solennità, dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro di esercitare la medicina in libertà e in dipendenza di giudizio e di comportamento, rifugendo da ogni indebito condizionamento. Di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale. Di curare ogni paziente con uguale scrupolo e impegno, prescindendo da etnia, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica, e promuovendo l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario. Di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di una persona. Di astenermi da ogni accanimento diagnostico e terapeutico. Di promuovere l'alleanza terapeutica con il paziente, fondata sulla fiducia, sulla reciproca informazione, nel rispetto e condivisione dei principi a cui si ispira l'arte medica. Di attenermi, nella mia attività, ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze. Di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina. Di affidare la mia reputazione professionale esclusivamente alla mia competenza e alle mie doti morali. Di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il decoro e la dignità della professione. Di rispettare i colleghi, anche in caso di contrasto di opinioni. Di rispettare e facilitare il diritto alla libera scelta del medico. Di prestare assistenza d'urgenza a chi ne ha bisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'autorità competente. Di osservare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che mi ha confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito, nell'esercizio della mia professione o in ragione del mio Stato. Di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza e secondiquità, osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione. Adesso distribuiremo con l'aiuto delle nostre valide segretarie ai giovani il codice deontologico, la medaglia distintiva, la pergamena con il codice. Qui abbiamo una serie di foto che ci hanno mandato i giovani, ed è bello dopo le foto che ci hanno fatto vedere i colleghi, diciamo così, più anzianotti, questi giovani volti che saranno coloro che ci cureranno e quindi sono la nostra speranza per il futuro. Volevo non aggiungere perché stamani avete sentito, nelle testimonianze dei colleghi meno giovani, chiamiamoli così, dei colleghi meno giovani consigli. Naturalmente toccherà a voi, alla vostra responsabilità, al vostro sentire, interpretare queste raccomandazioni, farle diventare vostre. Avete sicuramente notato come l'invito sia sempre duplice. Da una parte inseguite la vostra fame, la vostra sete di novità, di conoscenze, di competenze. Mi seguitela, siate curiosi, siate attenti, mai sazi, lo dico in senso buono, mai sazi di saperi e voglia di imparare, conoscere e cambiare. Siate in questa strada, su questa strada che è difficile, che insomma vi impegnerà moltissimo. Portate sempre però con voi un'idea. L'idea che questa è una professione di vicinanza, è una professione di prossimità, è una professione in cui voi dovete declinare le straordinarie conquiste della scienza con la storia di quella persona che in quel momento avete di fronte. Dovete misurarvi con questa grande mediazione, con quella persona. E sappiate che ogni relazione con la persona non è mai uguale a un'altra. Ogni relazione è unica e irripetibile. Portatevi con voi su questa strada, come si è detto anche, la voglia di emozionarvi, la voglia di sentire, magari anche la voglia di patire con chi sta con voi su questa strada. Questo vi aiuterà, vi aiuterà moltissimo, vi farà crescere. E, come dire, riuscirà in qualche modo, sono certo che ci riuscirete a dimostrare e a interpretare questa professione come una grandissima, grandissima speranza e certezza delle persone che soffrono e anche di quelle che per fortuna non soffrono, a cui comunque dovrete garantire il mantenimento di uno stato di salute. Ecco, riempitevi la testa di curiosità, riempitevi il cuore di emozioni e sarete tutti bravi medici. Grazie. Applausi Grazie Grazie Grazie.